Si aprirà domani all'Aurum di Pescara la mostra a Popoli delle Terre della Lana che resterà aperta fino al 27 agosto. Circa 50 pannelli saranno esposti e raffiguranti momenti di vita delle tribù nomadi iraniane. In esposizione anche tende e attrezzature per l'allevamento degli animali. Nel corso dell'evento esperti italiani e iraniani illustreranno anche il catalogo di 300 pagine della mostra. Un grandissimo evento di rilevanza internazionale portato a Pescara in Abruzzo e che sicuramente sarà il trampolino di lancio e la vetrina per l'Abruzzo in questo contesto internazionale. Quello che noi rappresenteremo praticamente è quello che è stata la transumanza e che rappresenta tutt'oggi la Transumanza Italia e quello che attualmente è la transumanza e la pastorizia itinerante in Iran. Tribù che vivono costantemente e quotidianamente dell'attività pastorale. Quindi la mattina escono al sole, al pascolo, fanno pascolare. La sera rientrano e al calare del sole c'è la mungitura, dopodiché c'è il rito del tè e poi c'è la cena, stare attorno al fuoco. Tutte cose che noi racconteremo in questa mostra che è entusiasmante. Che ha costruito negli anni una grande tradizione di qualità nella produzione della lana. Questi due percorsi, a distanza di tantissimi chilometri, hanno un'esperienza comune e hanno una potenzialità comune. Per cui mettiamo in questa mostra, a confronto, insieme, queste due bellissime esperienze. Abbiamo semplificato questo titolo parlando di popoli terre della lana, ma si potrebbe dire anche del latte, del formaggio, di una serie di altre cose importantissime che sono collegate all'allevamento. che, quindi, da questo punto di vista, come origine storica, anzi preistorica, ha delle radici comuni in tutto il mondo e in particolare in quest'area in senso lato mediterranea. Quindi, da questo punto di vista, c'è stata una base di partenza uguale, unica, diciamo, tra l'Italia e l'Iran.